Alcuni indizi si possono trovare nelle targhe delle auto e dei camper che percorrono le gallerie e scorrazzano nelle strade di Moneglia, ma è camminando per il centro che si ha la certezza di un cambiamento in atto. I turisti stranieri si confermano in quest'estate il principale traino per il settore turistico ligure. Dati non solo quantitativi, a Moneglia ad esempio è aumentata la varietà dei paesi di provenienza dei visitatori. Crescono gli americani, francesi ed est europei, così nelle vie del centro e in spiaggia risuonano lingue differenti. Veniamo dall'Austria, è la prima volta che veniamo a Moneglia. Stiamo in un appartamento, abbiamo sentito parlare del posto dai nostri amici che ci sono stati più volte. Veniamo dal Belgio, Bruxelles. È la prima volta in Liguria, sì, non la prima in Italia, noi amiamo l'Italia. Stiamo in un hotel a Genova. L'aumento delle presenze straniere può derivare da una serie di fattori diversi, ma l'unico dato certo è la grande attrattività di Moneglia, tra caratteristiche del territorio e una posizione strategica. Moneglia ci piace, è così originale e non è troppo turistica, è meravigliosa. Ti piace il mare? Sì, ci piace. Andrai a vedere le Cinque Terre? Sì, siamo già stati una volta a Vernazza. Cosa ti piace di più di questo posto? È piccola, è autentica, è molto intima, in verità mi piace anche per una gelateria che ho scovato, sono buone ragioni per tornare qui in futuro. Ci piace perché è più calma, è piccola rispetto ad altri posti, meno affollata. Ci ha fatto piacere venire qui anche per la spiaggia, è molto carina. No, non siamo ancora stati alle Cinque Terre, non penso ci andremo, ma siamo stati a Bruttofino, a Rapallo e in tanti altri posti. Per quanto riguarda i turisti italiani, invece, la percezione è che ci sia stata una flessione. Alcuni nuovi visitatori si incontrano comunque per strada, ma la maggior parte degli italiani in cui ci si imbatte, oltre ai residenti, sono i possessori di seconde case, innamorati di Moneglia da anni. In questo caso non possiamo parlare di semplici turisti. Vengo da Milano, una seconda casa al Mondial. Da quanti anni? Una decina. Moneglia, secondo me, è un posto che offre questa sorta di tranquillità dovuta alle due gallerie. Da quanti anni venite qua a Moneglia? Dunque, dagli anni 60, quindi, ecco, più di 50 anni. E di dove siete? Di Milano. Cosa vi piace di Moneglia? Senz'altro la tranquillità, non in questa stagione, però in alcuni momenti ancora c'è anche il fatto di essere molto rapidamente in mezzo alla natura. Questo è una cosa fondamentale per chi vive in città.